ecco Gabriele che è alle prese con la discesa ma molto molto lentamente invece nell'andata andava come una lipa era dietro all'Ivan invece adesso all'Ivan l'ha mollato per andare in vetta lui sta tornando indietro ma guarda 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 a caso la Suni è già qua eccola qui la Suni ciao Suni il tuo padrone è ancora su là eh eh sì è un po' un lumaca lui è sempre là in mezzo alle rocce figlia con il culo e sì ognuno c'è il suo punto debole e fra mezz'ora forse arriva